Ehi la ciurma, io sono Azieteseri, eccoci qui nel commentamento con cui ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Allora, non siamo messi male ma non siamo messi neanche benissimo. Per quello ora intanto, tu andrei, farei che andare su di questo, che così è andato questo. Ah quello è incapacitato, vabbè. Non è troppo un problema. Ti lascerei qua piuttosto, che farti allontanare troppo. Stai la sereno. Allora, lui non sta bene, avrei preso un po' di danni sto giro. Però questo fa danno entrambi, per cui vai su entrambi, che è una buona idea. Così che lui può picchiare un po' questo. Benissimo. Adesso Yulia la farei avanzare, farei avanzare anche lui in realtà. O gli do di nuovo l'inspire. Facciamo comunque dare l'inspire a lui, che ha più azioni, più che altro, per tirare giù questo. Ok, e poi tira giù questo. Buono. Per cui, tu, avanza qua. Tu hai modo di prendere qualcuno di quelli? Sì, allora, questo, ma non lo secca. Allora, se hai auto piercing... Ce la fa fare due. Però poi dovrebbe muoversi nel mezzo. Allora, vediamo un attimo di muoverla. Vai. Ottimo. Vai su quello. Bene. Ah, non era neanche Yulia. Ops, vabbè. Non è qua. Fai un quick shot. Su uno e poi su un altro. Ah, il secondo l'ho mancato. Vabbè. Fai questo. E poi fai un interupto se dovesse arrivare qualcuno là dietro. Vessi lo lasciò là e aspettiamo, sì. Ahia. Quello continua a vederci fin troppo bene. Ah! Ah no, ok. Deflected. Mi sa che non fanno più il giro, per cui... Dato sembrava così impossibile tirarle giù tutti, invece ce l'abbiamo praticamente fatta. Allora, bestia lo farei scendere se possibile. Con tutti i pavimenti che ha. Mentre allora... Fammi un doppio su questo, se riesce, sì. E avanza di qua. Tu avanza di qua. Vorrei vedere se il tuo Inspire riesce a... Ehm... Più che altro, lui riesce proprio a fare qualcosa. Io temo di no, perché... Ha già finito tutto, però adesso vediamo. Ah. Ehm... Tu muovi. E... Questo lo muovo invece indietro di qua. Tu prova l'Inspire su di lui. Non so se ci serva a qualcosa, ma... Eh, ma gli fa poco danno. Eh, prova. Eh! Adesso ci siamo tutti con bestia, ovvio. Aia! Ah, ma gli altri possono salire, ma io no. Cosa è sta storia? Dove è sta giustizia? Eh, allora niente. Andiamo anche con lui di qua. Allora, io muoverei... Lei più che altro. Che è quella più in gamba. Uno. E uno, due. E vediamo se riesce a... Mmm... Mica tanto. Ottimo. Un po' di bleeding. Quello che è anche un arciere, per cui lo muoviamo qua. Facciamo un bel tiro, ottimo. Questi mi sa che sono abbastanza inutili, ma... Ehm... Poi è un brace. Ehm... Ehm... Lui fa un corno. Ah no, ce n'era uno ancora là, ma dai da quando? Ah, già era per terra, ma non era... Stupido io. Quello scende, ma non è molto furbo. Ahia! Ok, forse invece è sì che è furbo. Allora, lui mi serve... Ok. Julius, se qua riesci a provvederlo. Sì. Andata, ok. Buono. Tutti i sogni salvi. Ah, possiamo anche... Saccheggiare tutto. Ma posso parlare anche con bestia? Allora, prendete tutto da qua. Vedete tutto da qua anche. Un bel po' di roba, interessante. Eh, secondo l'altro, il fatto di non essere scappati ci ha fatto... Ci ha dato la possibilità appunto di saccheggiare tutto. Allora, su quello. Perché qua so... No, quello l'ha già preso. Boh. Siamo andarcene. Torniamo, sì. Ah, vedi? Se lo rilascio nell'accampamento non costa medicine. Però non abbiamo ancora la possibilità di fare quella roba là. E non possiamo fare quella roba là perché non possiamo prendere la zona. Non possiamo prendere la zona perché non... Non abbiamo il tizio curato. Che ci serve per incontrare il tizio? Che ci serve per Zenobia? Che ci serve per l'idea del arcollo? Che ci serve per mandare la legione là? Quanto banca sta guarigione di Sideros adesso? Ok. È stato curato. Alleluia. Allora, andiamo qua. Ok. Allora. Lui ci serve. Sideros ci serve. Bestia anche. Iulia ci serve. E... Prendiamo anche lui. Che non l'abbiamo utilizzato fino a Roma. Non so quali sono i punti... Esclavativi, ma... Ma i loro giochi mettevano limiti al tempo. Ma è già come brutto per i dettagli minimi. Allora. Dai, come va tutto a scatti. C'è altra roba qua, no? Mi sa che c'è solo lui e basta. E dei barili là dietro. Tu? Cosa sta succedendo qui? Ehm... Ehm... Cosa vuoi? Sicuramente non mi hai luredato qui qui, è solo per uccidermi. Non mi hai portato qua solo per essere ucciso. Però è uccidermi, no? Tu puoi mantenere la tua vita, traiter. Ma nulla di più. Ecco la Zenobia. Ma nulla di più, ragazza, ragazza. Mi dovrebbe sapere che sei dietro dietro all'interno. Non capisci che tutto ciò che ho fatto era per assicurare la sicurezza e la prosperità di Musia? Mi marzo non era perfetto, ma era un buon ragazzo e un ragazzo. Perchè, Romano, sei stato manipulato. Maro era davvero indifferente alle necessità e alle esperienze delle persone. L'ho servito solo per rinforzare lui e i miei prossimi amici. Non era un crime di grado personale. Lo che ho fatto è stato supportato dai nostri amici. L'alternativa era la morte di cittadini. E la distruttura della nostra città. Ma questo è vero. Tu pensi che ciò che hai fatto era certo? Solo perché ti si rilassati con più fai? Nenuno di noi ha chiesto questa guerra. Il mio solo obiettivo è di proteggere le mie persone. Premio, il solo obiettivo è quello di far sì che la Misia lasci l'alleanza con Ponto. Non posso fare questo succedere. Con Apollo e Alexi Cacchus con Romano contro noi. Ci rilassiamo Ponto da nostri landi. Non puoi! Non ho chiesto di giustizia per il mio figlio. Il solo dice queste cose perché hai una scuola in suo pezzo. Allora Non mi fido troppo di Teofilo Per cui lo catturerei Catturiamolo Chi lo porta indietro L'opportunità che aveva preso lui Tu non sei la righte per la regia di Musia, Zenobia Non più che io Ce che ti faccio qui oggi Sarai dovuto fare tanti volte Quando la guerra è finita Se posso salvare Musia Da la morte di Roma E ristoro A la legge e ordine Mi accetterebbe Qualcione per quello che ho avuto Per ottenere Per potremmo Per potremmo incontri al Tempolo, Stratigos Abbiamo un'altra cosa Per cui discutere Dai, porremmo Siamo già bloccati qua Tantissimo, fortissimo Per due cavolate Che brutta situazione Riuscivo a sbloccarla mai Sono tipo dieci episodi Che siamo qua Bloccati in Musia Perché non possiamo fare niente Andiamo allora A parlare con lei Di nuovo A te più di pollo Ok È tornato il virus Entriamo Allora Vieni Sinanus Bestia Iulia Rainus Dai Vediamo cosa ha da dirci Speriamo che concluda La vicenda Una volta per tutte Non sono molto capace I caricamenti Perché Il 90% del tempo Il caricamento è completo Stiamo a guardare Il caricamento è completo Pronti? Dai Allora dov'è? È qua Adesso non è su in cima Al grande tempio V Sembra una pazzia Qual è il punto? Non ho bisogno di aiutare A scrivere un terribile wrong Ma davvero credo Questo sarà un'opportunità Per te Per avere un sentito Per Mithridates Parla allora Ok Ok Ah ok Quindi dobbiamo trovare Distruggere il contratto Mi sembra una buona idea Mi sembra una buona idea That way you And perhaps one of your Most trusted people Can sneak into Mithridates His main camp Not a bad plan If I'm being honest Bold But the best spycraft Always is Hmm 30% Trova Ok Ok Cosa ci guadagnerò? E' effettivamente Intensato Ma anche una buona idea Of the king himself Only stay your hand If you do so An assassination attempt Would be ill advised In those surroundings Vabbé Mithridates Is known as an excellent general Is the first of Rome's enemies In a long time To truly threaten The peace of the Republic Vabbé Ci pensano Oh 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 Ok 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 Detto che ancora Non può togliere Misia Dall'assedio Nonostante l'abbiamo Preso E' andato il potere Per carità Posso capire Ma Sono comunque Un po' perplesso Tutto questo Però comunque Se possiamo spostare La legione Mi sa di no E' andato E' andato Andare fin là Eh beh Però lo faremo nel prossimo episodio Detto questo Io vi invito Come al solito Lasciate un mi piace Un commento qua sotto Iscrivetevi se per caso Non l'aveste già fatto Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Grazie per la visione!